Siamo bloccati! Abbotti i mitraglieri! Siamo bloccati! Abbotti i mitraglieri! Siamo bloccati! Fanculo ad armi. Quella non mi è mai piaciuta. Quei radiofari saranno qui da qualche parte. Radiofari trovati! Allora via da qui, presto. Rihanna, è fatta. Ci vediamo sotto l'autostrada. Sto arrivando! Un riposo, ma se la caverà. Taglieremo per il campo da baseball e passeremo nel fosso di scarico di Elm Street. Forza! È poco più avanti! Tieni tu i radiofari, Jeffress. Quei autobotti saranno in città solamente per un paio o due. Le marchiamo prima che escano da Montrose. Prendiamo un elicottero e le seguiamo. Ora sai qual è la tua parte del piano? Manca ancora poco. Andiamo avanti. Torniamo indietro. Non ci prendo. Ragazzi, gettati in un fosso. Ragazzi... Ragazzi... Non te ne avete portati in questa fossa. Ma te ne avete portati in un fosso. Ma te ne avete portati. E tutti i figli di portata! Bastati del cazzo! Vedete! State dietro agli infatti! State di poterci gettare in un fosso! Quando lo è partito, dobbiamo battere le vedette! Impattete il nostro paese! Uccidete le nostre famiglie! Dobbiamo girare attorno al campo e avvicinarci alle torri quanto basta per lanciare una granata! Non siamo mica bestie alla macello, cazzo! E' risolto! Lo pagherete, figli di troia! Un немножко perutati! E' risolto! E riliche, gente! Sì! Dio! No! 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 Guarda di me! Das sai! Stieni kenneno per una decola torre! E' un cazzo! E' un cazzo! E' un cazzo! E' un cazzo! Sono tutti morti! Sei contento adesso? Adesso sì. Jacobs, vieni a vedere. Dai una bella occhiata. Cazzo, Connor. Non c'è niente da dire. Ora che si fa? Entrate. Cosa? Entrate! Hopper, ora! Dai, Hopper, vieni su! Su, arrivano! A terra. Cosa? A terra! Jacobs, entra dentro! Ora! Guardi, tu vuoi spiegare, ragazzi. Guardi, io! Adesso! Sì. 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 Non cazzo! Sì! Conor, dove siete? Il ritardo, tieni la posizione. Ci rivediamo alla scuola. Il ritardo, tieni la posizione. Il ritardo, tieni la posizione. E' la voce della libertà che vi saluta.